Abbiamo deciso di partecipare per la prima volta a questa fiera perché appunto vogliamo essere più presenti su questo territorio dove appunto vediamo grosse potenzialità. Sicuramente avere fiere del territorio attirano in particolare i ristoratori e i locali del territorio, quindi sicuramente è un vantaggio per avere appunto i ristoratori di zona. Conoscono bene anche e sanno quello che vogliono, quindi sicuramente ci troviamo davanti dei clienti che ci aiutano anche nel proporgli poi i prodotti che appunto gli servono maggiormente.